La difficoltà maggiore che abbiamo avuto durante lo sviluppo della Urus è stato sicuramente quello di mantenere lo spirito Lamborghini nel processo di sviluppo. Siamo riusciti a mantenere flessibilità e capacità di problem solving tipica di Lamborghini in tutti i passaggi che abbiamo avuto e nel raggiungimento delle diverse milestone. La volontà di raggiungere l'obiettivo, l'inizio della produzione e la commercializzazione della Urus ci ha permesso di andare oltre le difficoltà incontrate in questo processo di sviluppo. Si parla spesso in questi giorni di Urus come game changer di Lamborghini. Lo è sicuramente ma non è soltanto un game changer perché stiamo cambiando il nostro footprint industriale o perché miglioreremo i nostri conti aziendali nei prossimi anni. La Urus è stato il trigger per un cambio di mentalità all'interno dell'azienda. ci ha permesso di capire quali sono le nostre capacità e rappresenta sicuramente un'ottima base per il futuro e per raggiungere nuovi obiettivi.